E' bronzo per l'aria cousinato nei 400 misti femminili. Buon pomeriggio a tutti i vicepassati di sport e ben ritrovati su Mollerino Sport Channel con questo primo mini video sugli europei in Vasca Corta di Glasgow 2019. Per quanto riguarda le prime tre gare di questo pomeriggio scozzese, nei 50 rana maschili Scozzoli e Martinenghi in semifinale conquistano al punto il pass per la finale che avverrà fra circa un'oretta, come conquistano il pass anche le nostre raniste sempre di 50, Pilato e Carraro. Benedetta Pilato classe 2005 giovanissima, fa registrare il nuovo record del mondo giovanile e domina la prima semifinale. Per quanto riguarda invece la seconda semifinale vittoria per Martina Carraro e dunque passano entrambe con il primo e il secondo miglior tempo in finale. Per quanto riguarda invece la finale di 400 misti femminili, vittoria per la lady di ferro Katinka Ozu. La ungherese vince davanti a Susanna Jakabos e terza posizione appunto per la nostra Ilaria Cusinato. Ilaria Cusinato che è andata fortissima a dorso, è rimasta praticamente sulla scia di Katinka Ozu, che è tantissima roba dato che Katinka è vincitrice delle ultime Olimpiadi nei cento d'orso e appunto riesce a rimanerle sulle scie, poi sulla rana perde qualcosina ma la Jakabos perde molto di più, tant'è che all'inizio dello stile libero aveva circa due secondi di vantaggio sulla Jakabos, la nostra Cusinato, ma poi purtroppo nello stile libero paga le fatiche fatte in precedenza e si fa rimontare proprio all'ultimo, agli ultimissimi metri dalla Jakabos. Dunque doppietta ungherese e terza posizione per la nostra Cusinato, che dunque conquista un'ottima medaglia per l'Italia che apre molto bene questa rassegna europea. Comunque direi che per questo video è tutto, vi invito a lasciare un commento, un mi piace, iscrivervi, seguirci anche sulla nostra pagina Instagram e noi ci vediamo a un prossimo video. In questo momento, come state vedendo, si sta svolgendo la finale dei 400 stile libero maschili con Ciampi e Detti.